Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto griglie stelle, storie fotografate dentro... I volti dei bambini dell'ospedale pediatrico di Bangui, rimasti nel cuore di Papa Francesco, dal giorno della sua visita, quelli dei bambini di Amatrice, Norce e di tutti i borghi del centro Italia, distrutti dai terremoti di agosto e ottobre, e le canzoni di Claudio Baglioni. Saranno i protagonisti del concerto di beneficenza in Aula Paolo VI, la sera del 17 dicembre, giorno nel quale si festeggeranno anche gli 80 anni del Papa. Il progetto è stato lanciato a settembre dal cantautore italiano, che ha venduto in carriera 55 milioni di dischi, e dal comandante della gendarmeria vaticana, Domenico Gianni, al termine della festa per i 200 anni del corpo. I fondi raccolti dalla vendita dei biglietti e da altre donazioni saranno destinati alla formazione di medici pediatri e alla costruzione di nuovi padiglioni del nosocomio pediatrico della capitale della Repubblica Centrafricana, in collaborazione con l'ospedale Bambin Gesù. Una parte dei fondi permetterà la costruzione di una struttura destinata al divertimento e allo sport per i bambini in uno dei paesi del centro Italia colpiti dal sisma, come ci spiega il cantautore romano. Spesso in queste occasioni si rischia che dopo un momento di grande interesse ci sia sì una ricostruzione, ma solamente delle strutture, quando poi molto probabilmente gran parte delle persone, specialmente quelle della generazione più giovane, poi rischiano di andare via. Quindi per questo si pensa anche nel nostro progetto quello di provvedere a un'opera che sia di interesse sociale, che metta insieme, come in un oratorio, più persone e più famiglie. La canzone Avrai, che dà il nome al concerto e all'intero progetto di solidarietà, è stata scritta da Baglioni in occasione della nascita del figlio Giovanni. È una canzone che nel tempo è diventata una sorta di inno dell'augurio, della promessa, del patto stabile che deve essere tra coloro che sono già al mondo e quelli che stanno per arrivare. L'universo intero vive, e noi tutti viviamo, un momento di confusione, di spaesamento, probabilmente anche come spesso sottolinea con grande coraggio e determinazione Papa Francesco, questo modello economico e umanistico presenta delle problematiche, tant'è che ci sono molte disuguaglianze, molte ingiustizie, tante guerre, e l'individuo si perde un po' anche nella sua solitudine. Forse per questo dobbiamo essere più solidali, cioè cercare di completare queste nostre comuni solitudini. Paura e amore sono state le connotazioni del secolo precedente. Probabilmente oggi è rimasta più la paura che l'amore. Dobbiamo riconquistarlo, questo senso d'amore per noi stessi e per il prossimo. Tra le canzoni in programma anche Fratello Sore e Sorella Luna, più conosciuta come Dolce e Sentire, e le altre interpretate da un baglioni ventenne per il film di Franco Zeffirelli su San Francesco. Quelle canzoni, la colonna sonora di allora, mi portarono ad avere un grande privilegio, quello di essere la voce cantante in tutto il mondo di Francesco D'Assisi, di San Francesco. E quindi farà parte del mio repertorio. A promuovere l'evento in Aula Polo VI insieme alla Gendarmeria Vaticana, la Fondazione Oscia Onlus, nata sull'isola di Lampedusa dopo uno straordinario concerto del 2003, promosso da Baglioni per sensibilizzare sul tema dell'emergenza migranti, e che ha realizzato poi altri concerti gratuiti dedicati alla solidarietà e all'incontro di culture, con il contributo di numerosi artisti italiani e internazionali. Anche per questo il cantante ha incontrato Papa Francesco nel corso della sua visita a Lampedusa, e la serata del 17 dicembre è un'ideale prosecuzione di quegli eventi. Sarà un concerto molto diverso da quelli che normalmente faccio, quindi ha una caratteristica di eccezionalità. Ospiterà anche delle letture. I brani che io ho scelto sono dei brani per argomento, è un po' come se ci chiedessimo in un'ideale vigilia del giorno di Natale, quindi del giorno in cui finalmente torneremo ogni volta a rinascere, a che punto è la notte, a che punto è il mondo, con una serie di argomenti che verranno sottolineati da letture prese, da stralci di letture, dei discorsi appunto di Papa Francesco. In questo ci saranno degli attori che reciteranno e che racconteranno, diranno le parole del Pontefice, proprio perché vogliamo comunque, oltre al fatto della beneficenza, insomma, di questa manifestazione che si prefigge di avere solidamente degli interventi da fare fisici, però che ci siano anche appunto dei significati, che si possa riflettere sulla nostra condizione di esseri umani e sulla possibilità di poter celebrare un giorno migliore. Ci saranno insieme a me 150 musicisti, con una grande orchestra sinfonica, un grande coro lirico, i miei musicisti e coristi che solitamente mi accompagnano nei miei concerti più tradizionali, e tutti insieme, con le letture, con le canzoni e con alcune testimonianze che saranno date da personaggi del mondo civile, cercheremo di costruire questo concerto che avrai e che ci auguriamo sia continui, e possa essere magari anche un appuntamento per i prossimi anni. I titoli d'ingresso sono stati presi tutti quanti, quindi diciamo che è completata tutta la sala e siamo tra l'altro fieri perché siamo già in grado di poter consegnare una cifra molto importante, che è pari a 500 mila euro, a mezzo milione di euro, però contiamo di poter aumentare questa somma attraverso un numero solidale facendo il quale, mandando un sms 45523 sia da portatili che da rete fissa, ecco si possono donare 2 euro o 5-10 euro da rete fissa. Chiederemo di fare attraverso questo gesto ogni volta una donazione ulteriore perché tutte le somme che possono arrivare saranno utili a questo scopo.